ciao a tutti ragazzi bentornati qui sul mio canale qui vi parla e stondano 2000 oggi ragazzi siamo tornati su dragon box universe per continuare la nostra serie su questo fantastico gioco oggi ragazzi siamo con l'ottavo episodio e siamo pronti appunto per continuare la saga degli androidi qui su xenoverse 1 inoltre come potete ben vedere ho migliorato il mio personaggio in modo esponenziale infatti siamo a livello 54 ovviamente ci tengo a dirvi che io più aumento di livello e più sarà difficile continuare ad aumentare però comunque quando non registro io cerco di completare tutte le missioni parallele per riuscire a diventare più forte e sbloccare nuovi abiti e soprattutto anche nuove abilità lo stesso consiglio do anche a voi cercate di fare sempre più le missioni secondarie e poi quelle principali per arrivare pronti allo scontro definitivo inoltre ho anche cambiato un po i vestiti del mio patroller infatti adesso ho gli abiti di goku e di piccolo un po mischiati devo essere sincero ci sta abbastanza bene infatti mi piace molto però ragazzi prima di iniziare questo ottobre episodio per prima cosa io vi invito come al solito a lasciare un bel like poi ovviamente a iscrivervi al canale attivare la campanellina e ovviamente lasciare anche un bel commento i soliti passaggi per supportarmi al massimo e al 100 per cento infatti questa serie si è andato davvero molto bene e sono davvero orgoglioso di tutti quanti voi però prima di iniziare ci tengo a dirvi un piccolo particolare che è accaduto prima di registrare questo episodio ovvero che come ben sapete nel precedente episodio la saga degli androidi abbiamo iniziato e ci siamo praticamente interrutti nel momento in cui gohan è diventato super senti a secondo livello grazie all'energia corrotta lo stesso vale anche per mister stan che è stato colpito dell'energia corrotta e tutto il resto a presto però c'è stato un piccolo problema ovvero che l'episodio 8 vero e proprio che io ho registrato purtroppo non posso pubblicarlo perché è completamente coperto da copyright mi è stato bloccato e quindi non posso farlo quindi mi dispiace ragazzi ma non posso farvi vedere come si è conclusa la saga degli androidi però per dirvi in due piccoli secondi ho dovuto affrontare un'altra volta mila e toa che stavano continuamente disturbando la linea temporale hanno incrementato l'energia di cell forma perfetta oltre a quanto già era potente però siamo riusciti a sconfiggere cell e a salvare soprattutto anche il pianeta grazie anche a gohan con la sua splendida cambiamento a padre e figlio per detto ciò comunque i cambiamenti vero ci sono stati però in questo ottavo episodio non ho potuto farveli vedere quindi l'ottavo episodio sarà questo qui che vi sto registrando adesso e immagino che inizieremo la saga di majin bua quindi mi dispiace ragazzi che non ho potuto pubblicare quell'episodio ma purtroppo non posso farlo perché il copyright come sapete attacca sempre e comunque quindi andiamo da trunks abbiamo già parlato abbastanza e siamo pronti per continuare andiamo trunks si è verificata un'altra distorsione sono andando a controllare le pergamene vieni con me certo andiamo alla camera del tempo e speriamo ovviamente che non ci sia altro copyright perché sono un po stanco eh era 763 abbiamo ricevuto delle notizie sugli androidi al momento stanno attaccando brigittano ah quindi non è ancora finita la saga degli androidi ah meno male ah quindi qui siamo praticamente nel futuro di trunks ah questa volta c18 è corrotto immagino anche c17 giusto andiamo un po e già infatti è anche lui mi sa che sei leggermente fottuto mico mio e infatti ok quindi è perché infatti alla fine della saga degli androidi uh pure selle è corrutto penso tutti corrutti ok dobbiamo cercare appunto di tenere duro allora oh no sta scomparendo trunks è giusto sta scomparendo perché si viene eliminato sei per essere cancellato dalla storia cosa? è a causa di quei due è giusto voglio non modificare la storia per cancellare la mia esistenza è uscente il tempo cosa posso fare? calmati non puoi fare nulla dato che sei per svanire è giusto ma non abbiamo più tempo ci pensarei tu vero? beh come al solito per favore magari venissi anche pagato che ne dite voi due? dopo questa voglio i soldi eh mi raccomando beh entriamo adesso me ne do a salvarti trunks coraggio resisti i crudelli androide del futuro bene sconfiggi tutti i nemici era 733 bene trunks almeno tu resta con noi perché una mano ci serve ed eccoci qui anche noi perfetto sempre presenti allora ah subito mi mirano tutti e due bene allora bene c18 iniziamo un po' a ballare avanti e dove vai tu sei mia bella ora è il nostro giocattolo lo anzitiamo a vedere ok perfetto vedete tu con una bella tempesta gigante oh yeah perfetto colpita facciamo un po' come nella storia che trunks elimina prima su di sotto i possibili ci aspetta allora beh dai forse manca poco perfetto parone galic e non va a parire giusto che sta facendo questo? bella mossa becca di questa però camera mia eliminata perfetto c18 a 7 e cioè non ti sorpresto che sia eliminata la tua cara sorellina olè oh boom campo finale olè colpire insieme vai trunks mettici anche del tuo perché non ti trasporti magari così un monso super ma attenzione ti è colpito meno male oh perfetto eh addirittura ancora scudi verdi bene e ora Dunque ragazzi Siamo tornati a Toki Toki City Allora dunque devo dirvi un altro paio di cose Sinceramente mi sto un po' stancando Però comunque io non mi arrendo e voglio andare avanti Allora cosa è successo In poche parole Anche in questo episodio c'è stata una Allora vi posso dire in poche parole Che questo gioco credo che sia il gioco con più scene bloccate E copyright che abbiamo mai visto Purtroppo anche in questo episodio si è Rivelato L'ennesimo episodio Ho copriettato ovvero che all'inizio Ho potuto mostrarvi io e Trunks contro I due androidi corrotti Però c'è stata anche un'altra parte che avevo voluto mostrarvi Ci ho messo sempre davvero poco tempo Per riuscire a Completarla però comunque la devo raccontare In poche parole è successo che io e Trunks Abbiamo combattuto contro Cell però Cell non prima forma come Nell'anime in cui Trunks è una volta tornato nel futuro Ha sconfitto i due androidi e poi Cell Però qui non era Cell prima forma Ma era Cell perfetto in più Contaminato dall'energia corrotta di Mira e Towa Però purtroppo ogni volta ho notato che ci sta un nemico Corrotto da Mira e Towa In cui ci sono anche loro due Purtroppo la scena è bloccata È una cosa assurda Io e Trunks l'abbiamo sconfitto Abbiamo salvato anche Trunks dal Diciamo Dalla cancellazione della storia E quindi Siamo riusciti a salvare per l'ennesima volta Gli episodi per quanto riguarda la storia di Dragon Ball Peccato che però non sono riuscito a farvelo vedere Perché giustamente il copyright se non attacca non è felice Io ragazzi spero che questo episodio Seppur breve perché comunque Dunque la saga di dentro E quindi siamo riusciti a completarla Fortunatamente Questo episodio sicuramente sarà venuto brevissimo Però spero che vi sia piaciuto Io sto cercando di fare il possibile Per riuscire a portarvelo Mi dispiace ma purtroppo per il copyright Non posso farci nulla Altrimenti mi bloccano il canale Se tu d'astante Io spero che comunque ragazzi Vi sia piaciuto Seppur breve comunque Abbiamo anche chiacchierato un po' Io poi ben presto farò anche una live In cui parleremo un po' di Dragon Ball Farò anche delle missioni parallele sul gioco Saremo un po' in compagnia Spero che ci sarete Da tutto ciò ragazzi Io spero che il video Seppur abbastanza particolare Vi sia piaciuto Se è così vi invito a lasciare un bel like Commentate in tanti Iscrivetevi al canale E soprattutto ragazzi Attivate la campanellina Da tutto ciò Noi ci vediamo Alla prossima Ciao ciao ragazzi Al prossimo video Ciao 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 Grazie a tutti.